Evento conclusivo della rassegna di laboratori teatrali di Energicamente, progetto di educazione all'ambiente e all'energia, promosso da Estra, Legambiente e Giunti, Progetti Educativi. Al Teatro Mecenate di Arezzo, venerdì 5 maggio, sono andati in scena gli alunni delle scuole primarie Marco Polo di San Giuliano e Aldo Moro di Arezzo e della secondaria Piero della Francesca di Arezzo. Sabato 6 maggio è stata la volta di quelli delle scuole primarie Alduducci di Olmo e Pioborri di Arezzo e della secondaria Francesco Severi di Arezzo. I laboratori l'energia del teatro sono stati organizzati in collaborazione con la Libera Accademia del Teatro e con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Ufficio Scolastico Regionale. Sono state coinvolte 6 classi per ogni area territoriale, Arezzo, Siena e Prato, 20 le ore di laboratorio per ciascuna classe che sono iniziate dopo le lezioni in classe di Legambiente.